Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it e oggi ti mostro una vetrata veramente eccezionale. Questa è una vetrata ad angolo, completamente apribile e motorizzata. Come puoi vedere, questo punto è completamente aperto, senza colonna, quindi questo si apre e si chiude motorizzato con la guida a filo vaivento e dei venti molto prestazionali. Basta un pulsante oppure puoi comandarlo dalla tua applicazione, per esempio se sei all'estero e a casa devi aprire con la guida o chiudere con la guida, lo puoi fare anche a distanza con un collegamento internet in massima sicurezza. Come vedi chiude un'altra e poi l'altra, va a fare la chiusura ermetrica oppure lo posso fermare in qualsiasi posizione ed è una vetrata veramente veramente bella. Grazie a tutti.